Questa sera avrò il piacere e l'onore di dialogare e di intervistare Maria De Giovanni, una scrittrice, una collaboratrice del nuovo quotidiano di Puglia, con la quale avremo il piacere di intrattenerci su un tema alquanto delicato, quello della sclerosi multipla. Una riflessione sarà a cuore aperto e a 360 gradi, partendo da quella che è l'esperienza personale diretta dell'autrice, purtroppo portatrice di questa malattia ormai famosa alle cronache, ma che ci darà sicuramente delle importanti indicazioni su come oggi, grazie alle importanti evoluzioni della tecnologia e della scienza, si riesce a convivere tranquillamente con queste malattie e in qualche modo si riesce a portare avanti una vita serena e dignitosa che permette, nel caso di Maria, per l'appunto le permette di dedicarsi anche in maniera molto forte al volontariato con la sua associazione Sunrise. Questa sera siamo a Galatone, una tappa importante della presentazione del libro sulle orme della sclerosi multipla, la rinascita. Il mio ringraziamento sicuramente va all'amministrazione comunale, che è sensibile a questo tema sociale, che è un tema che purtroppo attanaglia un po' tutti quanti, perché la sclerosi multipla è una malattia che incide moltissimo e pensate che ci sono diagnosi una ogni tre ore, quindi una malattia veramente che sta incalzando. Questo libro si intitola La rinascita, la rinascita come donna, come mamma che si mette di fronte allo specchio e finalmente butta via tutte le maschere della mamma perfetta, ma così come la donna perfetta. C'è stato un taglio, un taglionetto, abbiamo cominciato con i capelli, però quello è stato soltanto l'inizio, l'inizio di una nuova vita. E in questa nuova vita poi sono arrivate tante persone che hanno colorato il mio cielo, ma soprattutto è arrivata una emozione molto forte, perché attraverso l'associazione di cui mi onoro di essere la presidente, quest'anno abbiamo realizzato un progetto bellissimo che appunto si chiama Il mare di tutti. Il mare di tutti dedicato particolarmente alle persone con la sclerosi multipla, perché in questo progetto noi abbiamo promosso la fisioterapia a mare. È stato un progetto che ha riscosso veramente un grande successo, ma a noi, o a me in particolare, quello che importa non è il successo dal punto di vista mediatico. È l'attenzione che si riserva verso certe patologie che devono avere una delicatezza e una dignità anche nell'affrontare giorno dopo giorno. Qualche giorno fa, notizia che è imperversa oramai sui social e sui media, ho ricevuto un encomio del Presidente della Repubblica, il quale veramente è stato molto bravo a sintetizzare in tre frasi il mio operato nel territorio. Quindi il mio ringraziamento va sicuramente in questo momento alla cittadinanza di Galatone e poi a tutte le persone che mi seguono e che credono che il futuro è un futuro fatto di coraggio e di speranza. Questo è il messaggio che vorrei che arrivasse a ognuno di voi. Buona vita a tutti!